Tassina con il Departamento di Cultura junto con l'Exprodesk di 2017 Caba, noi abbiamo una relazione di troppo, di società che è parte di exportare creatività è un hobby importante e mirando con Aruba abbiamo un hobby talento in diverse aree è parte artista è crescere più e più abbiamo un hobby di esnang con la birra internazionale e ora è per mezzo di Exprodesk qui è un'unità di direzione economica per venire a cercare per avere informazioni ora qui abbiamo un'opportunità a trovi con la radio di Doral WDNA 88.1 FM per artista, cantante e musico per mandare un audio file a Exprodesk e è qui non posso subire il web di Exprodesk.com e assinare per andare a un audio file per selezionare e ho ho il e anche un consiglio che che ad una musica e compositori e artista qui per registrare la canzone nel Biro Intelectuale del Departamento di Derecho Intelectual quindi assiniamo per non registrare una volta che faccio il file per andare all'exteriore per essere altre persone per usare la musica quindi qui ci sono consigliare registrare il Derecho di Autore di una composizione quindi è stata una opportunità come ho avuto il 18 di Juli ho avuto 18 di Augusto ho avuto una luna di tempo per ottenere il contatto con l'Exprodesc e così ho portato dove l'artista non voglio seleccionare per la musica tocare naturalmente per tutto il mondo e per essere ascoltato e anche mi piace mirare il interesse per l'artista artista scrittore poeta partecipare è molto importante per partecipare nel workshop economico per exportare il suo prodotto all'argomento per mezzo di facilità con l'exprodesc della Duna per l'argomento